Beh che dire, fattori straordinari e positivi del web sicuramente sono due. Il primo è che riusciamo a comunicare ad oggi grazie al web in tutto il mondo con facilità. Il secondo è che il web ci aiuta a comunicare oltre che con persone fisiche, le nostre idee, la nostra creatività, la nostra voglia di giustizia e tante altre cose in modo molto rapido e molto più diffuso. Nel senso che se una volta un sindaco o un avvocato compievano un illecito, c'erano solo pochi giornali e poche televisioni che emettevano la notizia. Ad oggi esistono invece tanti siti, tante testate giornalistiche che ci fanno notare il clamore della falsa tonica che può indossare il sindaco, che può indossare l'avvocato, che può indossare il dottore, che può indossare il prete, che spesso sono coinvolti ad oggi in reati e in ingiustizie. Allo stesso tempo il web però ha dei fattori negativi. Per esempio io per lavoro sono un filmmaker, molte volte cosa mi capita? Mi capita che la mia velocità è a banda larga, anzi che è 20 MB, come c'è scritto sul contratto telefonico, mi produce 5-6 MB. Quindi io devo andare a pagare fuori qualcuno che mi aiuti a caricare i video su alcuni siti per garantire più velocità di tempo, perché se li voglio a qualità alta o chi me li commissiona ma li desidera qualità alti, i miei 5-6 MB effettivi non bastano per poter sviluppare una fase di download efficiente nei confronti di chi mi commissiona tutto questo. Forse perché ancora non c'è la fibra ottica dappertutto, forse perché ancora non siamo abbastanza evoluti in tutto questo rispetto all'America e così via, o perché ovviamente viene prediletta la zona centrale anziché la zona periferica per quanto riguarda appunto la banda larga, la fibra ottica e così via. Fattore negativo di internet, resta sempre il punto che si rischiano delle truffe, a me capita per esempio spesso che mi mandano delle email che se non sbaglio sono chiamate truffe nigeriane, truffe africane e truffe nere, che non sono altro che quelle truffe dove ti dicono, ah io sono orfano, orfana di un grosso politico, di un grosso imprenditore, mio padre e mia madre sono stati uccisi in una guerra civile in Africa, in una guerra civile nel Sud America, in realtà tutto questo non è vero, ma il loro scopo qual è? Ah sono ereditiero dicono, sono ereditiera, aiutami per favore a riuscire a riavere la mia eredità, un povero allocco dice, cavolo questa ha un'eredità, questo ha un'eredità di 3-4 milioni di dollari e mi sta dicendo che il 20-30% se l'aiuto a immettere sul mio conto corrente, quei soldi sono miei, attenzione però perché quei soldi? Sono soldi ricettati, sono soldi frutto di evasione fiscale di chissà quale grosso imprenditore o di chissà quale persona che deve camuffare i suoi illeciti, quindi di conseguenza poi la polizia postale o altri addetti ai controlli ovviamente andranno a indagare il povero fesso che si è fatti mettere a 500-1500 euro per volto, addirittura in un'unica transizione, milioni di dollari o milioni di euro, come volte volte invece sono hacker stessi, magari che hanno rubato sui conti correnti bancari di qualcuno e li fanno rimbalzare da conto a conto, ne trattiene una percentuale fino a quando loro hanno la garanzia che possono prendere un parziale di quello che hanno rubato sul conto corrente di qualcuno per poterlo tenere per loro stessi. Questo è sicuramente uno dei fattori più negativi del web perché non è assolutamente positivo questo genere di proposte economiche così allettanti che in realtà hanno dei retroscena assurdi, oppure per esempio c'è la truffa del prete che dice se mi aiuti perché qui ho una rifugiata o un rifugiato che ha tutti questi soldi, come ricompensa ti darò 120.000 euro, però in cambio devi pagare tu la transizione, tu all'occhio che stai da questa parte del computer e del monitor, di 120 euro. In realtà tu paghi una transizione che non è una vera transizione, che è un accredito che fai con FedEx, Western Union o altri sistemi attualmente disponibili online, se non leggi bene la voce che fra l'altro molte volte è in lingua inglese, ecco che hai una truffa di 120 euro che ti viene rifilata. Fai una denuncia, ovviamente la polizia postale ne prende atto, ma per 120 euro, come per 70 euro, 90 euro, ovviamente in Italia fra l'altro con le franchigie alle stelle non può inoltrare una causa internazionale o nazionale, visto che poi magari si scopre che l'IP era di un server in Italia che si è finto all'estero e così via. Questo sicuramente sono, ecco, questo genere di truffe è uno dei fattori più negativi del web. Per il resto invece, riassumendo, la comunicazione è sicuramente un fattore positivo e tutto quello che è la diffusione in modo rapido che ci dà la possibilità ad oggi di avere il web che prima senza questa tecnologia sicuramente non avevamo. Ciao a tutti!